Vediamo un po' come faccio questi passaggi in mezzo al bosco, bisogna di lungo l'arco. Allora qua mi acciucco e faccio così, vedete? Invece, guardate qui, faccio anche da qui come faccio. Da qui, ecco, guardate, vedete? Bisogna stare attenti, quindi il piede qui è spaffato, vedete? Quindi bisogna avere agilità. Non è semplice perché l'improvviso ci troviamo una serie di ostacoli apparentemente sommortabili. Sommortabili, no, sormondabili, esatto, sormondabili, cioè che li sappiamo superare. Però mentre si sormonda, si va sopra, tipo qui, avete visto? Prima si è passato sopra. Poi ho girato lo stato, sono tornato indietro, sono salito sopra questo lama. Poi c'è stata la frattura di questo lama secco. Vedete? Questo si è rotto. Quindi dal momento che si cade giù si rischia la frattura, la distorsione o la lussazione del piede. è già perché, a parte ciò, poi il peso, il peso, il 60 kg, un peso eccessivo là da un metro giù, è già. La mia fortuna è che io vado sempre sopra la montagna. Quindi sono molto agile, sono allenato. Guardate qui, oh, là, altri rami, tutti giù per terra. Qui si sente, anche lì, bella, eh? poi noi ho ricevono...